È scientificamente dimostrato che la mente è in grado di distorcere i ricordi e le emozioni associate ad essi. In stato di ipnosi, inoltre, tende a colmare i vuoti temporali creando vere e proprie allucinazioni mnemoniche, scene talmente vivide e dettagliate che il soggetto ha l'illusione di averle realmente vissute, al punto da convincersi che si tratti di veri ricordi. Questi due fenomeni, che la scienza ufficiale chiama rispettivamente all'omnesia e pseudomnesia, spiegano il motivo per cui le testimonianze ottenute sotto ipnosi regressiva o tecniche simili non siano assolutamente utilizzabili come fonte di prova.